L'avvocato Guglielmo Acevolin, presidente dell'Istoria Limes Club, buonasera avvocato. Buonasera. Senta, allora la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sta avvolgendo alla conclusione, no? Secondo lei è stata utile? Perché questa è la domanda. Ma diciamo che c'è sempre un aspetto mediatico anche da valutare. Certo ha posto il tema dell'ambiente all'attenzione, ecco. Poi probabilmente adesso la bozza finale, ci sono anche dei trucchetti proprio di comunicazione, perché non so, ci dicono da un lato che non sono raggiunti 100 miliardi di finanziamento per i paesi in via di sviluppo perché ritornino un po' indietro sull'inquinamento, però io penso che saranno invece raggiunti proprio perché verso una bozza finale ci fanno sempre attendere questo... Suspense. Ecco, questa suspense. Poi invece in altre cose sembra che Greenpeace abbia puntato il dito sulla piaga, cioè sul fatto che non si è parlato, non c'è nella bozza, si è parlato ma non c'è nella bozza niente di limiti alle fonti fossili, quindi gas, petrolio e così via. Da questo punto di vista è vero che non c'è stato per esempio un accordo completo proprio sulla fuoriuscita dal carbone, però è anche vero che, perché Stati Uniti, Russia e Cina hanno mancato, è anche vero che non hanno firmato, 40 paesi sì, queste tre grandi superpotenze no, e quindi dal punto di vista della geopolitica qualche significato ce l'ha. Poi un altro aspetto è che il 7% l'India, il 28% la Cina sono responsabili delle emissioni di enidride carbonica e questi soggetti non sono stati guidati da leadership occidentali convincenti, tant'è vero che sia la Cina che l'India hanno mandato delle delegazioni un po', diciamo comunque non erano disponibili a rinunciare a quello che... Non hanno dimostrato un grande interesse diciamo su questo... No, no, diciamo che Xi ha mandato poi un documento alla fine come sempre, come dire, di livello di competenza, c'è il fatto di perché non sia in presenza Xi, ma un'altra spiegazione che è stata data dalla stampa cinese è che deve rispettare le regole del Covid, che in Cina sono molto... si rispetta quando ci sono delle regole, si rispettano in maniera da paese totalitario e anche il leader praticamente dovrebbe, se va all'estero, sottoporsi a una quarantena di tre settimane, probabilmente una quarantena di tre settimane è un po' troppo per tenere sotto controllo la Cina e che non accada che qualcuno gliela soffia, ecco, nel senso all'interno delle gerarchie del Partito Comunista, quindi insomma è rimasto lì per controllare, perché è da parecchio tempo che mi hanno fatto il calcolo, mi pare addirittura dal gennaio del 2020, quindi ormai sono quasi due anni che non esce dalla Cina, ecco. E poi ecco, l'altro tema sono le fonti rinnovabili, dove però è vero che l'energia nucleare non produce anidride carbonica, però da questo a dire che l'energia nucleare sia pulita, con quello che è successo a Fukushima, in Giappone, con Fukushima, sì. E sarà credo oggetto anche dell'intervento di uno dei nostri prossimi ospiti, Giorgio Zanin, perché oggi ricorre l'anniversario 34 anni fa, oggi, come oggi, 34 anni fa, no, del referendum dell'87, quello che ha... Però diciamo, sull'energia nucleare, sebbene io da giovane un po' simpatizzavo per il greco complotto dove c'era Atom for Energy, tra i vari slogan, così, devo dire che, sì, insomma, è tutto evidente poi che, per esempio, noi come Paese non siamo in grado di gestire le scorie, nemmeno quelle passate, quindi... Ma perché? Perché non facciamo una cosa che è importantissima, cioè quella di dialogare con le popolazioni che si beccano poi lo stoccaggio delle scorie nucleari nei posti dove sono strassicure, però tutto perché siamo un Paese, in certe cose, un po' strano, ecco. Diciamo che non abbiamo neanche le caratteristiche fisiche, perché siamo un Paese piccolo, quasi completamente antropizzato. Però mi dicono che, per esempio, in certi posti dove c'è il sottosuolo di gesso, sono anche, purtroppo, però, località anche turistiche, si potrebbero stoccare benissimo in grande sicurezza, però, ovviamente, località turistica, metterci le scorie nucleari, insomma, però tutte queste cose si possono fare condividendo con la popolazione, dando dei finanziamenti, perché chi si becca alle scorie nucleari è chiaro che non è che se le becca così perché dice tocca a te, ciao, e, no, insomma, però sono tutti discorsi e percorsi che comportano sempre un grado di approfondimento, di sforzo politico, di vicinanza alla popolazione, che spesso non siamo, non abbiamo voglia di fare. Certo. Bene, con l'Avvocato Cevolin ci troveremo anche per affrontare il problema dei flussi migratori e anche di questa idea che ormai nell'aria da un po' alcuni Stati europei, dell'Unione Europea, vogliono alzare dei veri e propri muri di contenimento dei flussi migratori. Ne parleremo in uno speciale che andrà in onda prossimamente, ancora la data non la diciamo. No. Intanto grazie, Avvocato, e appuntamento per questo speciale e poi per il suo consueto appuntamento settimanale. Grazie infinite.